cari amici di radio radio un caro saluto da diego fusaro ancora una volta puntuale come un orologio elvetico torna a farsi sentire la voce del padrone di bruxelles la voce cioè che sempre immancabilmente torna a richiamare l'italia i propri doveri legati al verbo liberista la voce cioè che puntualmente esorta l'italia a mantenere fede al programma neoliberale a cui deve attenersi in quanto ce lo chiede l'europa ebbene questa volta bruxelles attacca l'italia sui licenziamenti il blocco è un errore spiega bruxelles per la commissione europea infatti lo stop alle uscite discrimina i lavoratori precari così leggiamo sul rotocalco turbo mondialista immancabile voce del padronato cosmopolitico e del nuovo ordine degli euro in omani delle brume di bruxelles licenziamenti bruxelles attacca l'italia il blocco è un errore proviamo a ragionare per sommi capi sul modus cogitandi proposto ancora una volta dall'unione europea si dice che il blocco dei licenziamenti discrimina i precari i quali come noto sono la categoria meno tutelata e meno protetta ora logica vorrebbe che si imponesse dunque il blocco dei licenziamenti o qualche misura protettiva analoga anche per i precari e invece no vale la logica opposta per non far torto ai precari bisogna dice l'unione europea licenziare anche i non precari bisogna togliere i diritti anche a colori quali ancora ne beneficiano è quella che hegel chiamava l'uguaglianza dell'irrilevanza ossia l'essere tutti uguali nel senso di tutti ugualmente irrilevanti abbiamo visto molteplici volte in questi anni operare questa logica della uguaglianza dell'irrilevanza è stato peraltro l'argomento con cui è stato abolito l'articolo 18 si diceva che l'articolo 18 copriva alcuni lavoratori e non tutti e anziché estenderlo a tutti i lavoratori si è preteso di far giustizia togliendo l'articolo 18 per quei gruppi di lavoratori che ancora ne beneficiavano insomma la logica ferrea utilizzata dal padronato cosmopolitico san frontier è sempre la solita si trasformano ideologicamente i diritti in privilegi e in questa maniera si contrabbanda la lotta contro i diritti come benemerita lotta contro i privilegi ed è proprio ciò che sta accadendo in questi giorni dato che ripeto si dice che il blocco dei licenziamenti va a colpire soprattutto i precari che non possono beneficiarne anziché tutelare in qualche modo anche i precari si sceglie di togliere il modo di tutelare i non precari per produrre l'uguaglianza dell'irrilevanza appunto l'essere tutti ugualmente irrilevanti ancora una volta il padronato cosmopolitico vince non soltanto perché amministra l'ordine delle cose ma perché in pari tempo gestisce unilateralmente anche l'ordine del discorso e riesce a imporre le proprie grammatiche le proprie mappe anche a coloro i quali tutto l'interesse avrebbero non soltanto a non utilizzarle ma di più a combatterle pugnacemente